Allora noi siamo qui al parco dell'ex aeroporto del quale ci tengo particolarmente che venga valorizzato, a quanto pare qui i lavori stanno andando in sofferenza e molto molto a rilento. All'interno di questo parco esiste il progetto della pista Puntrac, cosiddetta Puntrac, un progetto che doveva essere terminato a settembre del 2023 e che oggi risulta abbandonato nel degrado e chiuso. Considerando che questa è una pista che è lunga 600 metri, in genere in Italia il massimo delle piste Puntrac sono 200 metri, i lavori non stanno andando avanti, è tutto fermo e siamo particolarmente preoccupati. 250 mila euro di soldi pubblici spesi in questa idea che ad oggi è caduta nel silenzio. Non vorrei che rientrasse nel Guinness dei primati dei molti cantieri aperti a Fano e dei quali alcuni di essi non stanno andando avanti e che sicuramente rimarranno sulle spalle di chi ci sarà dopo giugno. Sicuramente questo progetto e questa pista andrà pensata bene se verrà realizzata perché ad oggi lo vediamo tutti come messa, proprio in virtù della sua lunghezza e della sua grandezza. Siamo preoccupati per il cantiere che è fermo, che non sta andando avanti, siamo preoccupati per questo silenzio, per questo degrado che vediamo. Vorremmo avere delle risposte chiare da questa amministrazione sul perché è tutto abbandonato. Tra l'altro non ci sono più neanche le macchine operatrici che fino a qualche tempo fa c'erano e facevano capire che il cantiere stesse andando avanti. Quindi aspettiamo da questa amministrazione delle risposte perché è giusto che i cittadini le sappiano. La città è coinvolta in questi progetti perché i soldi tra l'altro spesi sono soldi dei cittadini, sono soldi pubblici. Mi auguro che arrivi presto una risposta equa, chiara, sul perché questo progetto e questo cantiere è chiuso ed è fermo e quale saranno poi i risvolti futuri andando avanti, se c'è speranza che venga ripreso oppure anche questo sarà uno di quei cantieri che hanno fatto parte di una passerella mediatica e di tanti proclami e dopodiché è caduto nel silenzio.